Parliamo del workflow per la pubblicazione di un libro di carta. Noi utilizziamo sempre Streetlib. Streetlib ci consente di pubblicare i book che abbiamo visto e anche libri di carta. Questo è il workflow fondamentalmente. Dal formato testo inseriamo il libro in NoWrite che è un'application speciale di Streetlib. Scegliamo il formato di stampa, le dimensioni, la carta, creiamo la copertina secondo le indicazioni, pubblichiamo il libro di carta negli store. Interessante questo, ordiniamo le copie di carta personale per gli incontri. per gli incontri pubblici, per regalarlo, per venderlo direttamente noi. E qui ne vedremo delle belle perché questo sistema è straordinariamente di grandissimo interesse. Pubblicare il libro negli store. Ora, gli store a questo punto però si riducono perché non sono più tanti come nella pubblicazione degli ebook, ma sono pochi, sono tre o quattro gli store, attraverso i quali pubblicare il libro di carta. E perché sono così pochi? Perché il libro di carta in realtà non viene stampato. Udite, udite. Cioè, come non viene stampato? No. Io non stampo, né io, né scritto di libro, né nessuno, stampa alcun libro di carta. Noi pubblichiamo in realtà un libro digitale, un pdf impaginato. Poi che cosa succede? Succede che il tizio che vuole questo libro di carta vede che c'è in formato IPUB, Kindle, quello che vuole, e poi c'è anche di carta. Allora lo ordina, fa clic e dice ne voglio una copia, oppure voglio tre copie e due le regalo. Le compro. È in quel momento lì che il libro, il pdf, viene stampato attraverso un service di stampa particolare che stampa on demand, cioè su richiesta. Si chiama print on demand, cioè stampa su richiesta. Quindi Giussi si connette da Udine, no, va nello store una copia. Patrizia, non so, magari da Catanzaro, per dire, ne sta una copia. Luca Witt, magari da Milano, una copia. Tutti adesso, tutti nello stesso momento, non importa. Il sistema di pubblicazione stamperà tre copie, ne manda una a Patrizia, una a Giussi e una a Luca, in tre città diverse. Questo sistema è estremamente e incredibilmente vantaggioso, perché elimina tutta una serie di spese, spese di stoccaggio, spese di pubblicazioni di centinaia di copie di un libro che devono stare a marcire nei magazzini, devono essere distribuiti. Tu mandi dieci libri alla Feltrine di Verona e la Feltrine di Verona ne vende manco uno, mentre quella di Milano invece ti richiede di avere cinque o sei libri perché lì ci sono colleghi che lo comprano. Cioè, è un casino. Ecco che tutto questo sistema fa lievitare i prezzi dei libri in modo incredibile. Invece così, col print on demand, vedremo delle belle sorprese per quanto riguarda prezzi di vendita e ricavi da parte dell'autore. Vediamo, qui ho poche slide, sono 621, quindi facciamo in fretta. Allora, dunque, prima di tutto, per creare il libro di carta dovete avere il libro in formato IPUB, IPUB3, Text3Flow, eccetera, perché tanto passa da lì. Quindi l'impaginazione è corretta e tutto quanto, quindi a quel punto, se lo fate di carta, fatelo anche in IPUB, anzi prima lo fate in IPUB, con tutta l'impaginazione che vi ho detto io, perché il meccanismo è quello, solo che poi dovete ricavare un PDF, per esempio. E quindi fate, lo fate in entrambi i casi. Questo è le luci rosse del colonnello, questa è la vecchia copertina, vedete, poi ho cambiato la copertina, si trova a stampa, si trova in ingresso, poi lo vedremo, insomma, nei vari formati. Questa è una pagina bianca, quindi abbiamo solo 620 slide, non 621. Questo è il libro, è il libro di carta, anzi, guardate, siccome ne ho ordinato alcune copie, ve lo faccio vedere proprio in mano tutto. Quindi ragioniamo su questo sistema. Allora, prima di tutto, voi entrate, entrate in... Quando dovete pubblicare un libro di carta, avete creato l'IPUB, vedete, questo è l'IPUB, costa 4 euro, e questo invece è il libro di carta, costa 8,50. Ovviamente il libro di carta costa di più, perché c'è la stampa, la distribuzione, eccetera. Quando avete creato il libro, l'IPUB, quindi, come abbiamo visto prima, poi aggiungi pubblicazione di che tipo? Di carta. Quando aggiungete una pubblicazione, scegliete che sia un libro di carta. E quindi inizia poi il processo di pubblicazione, per cui vi chiede, naturalmente, tutti i metadati. Questo è interessante perché è il formato di pagina, questo è 115x190, bianco-nero standard, copertina lucida, grammatura della copertina 300 grammi, senza lette, carta bianca, grammatura della pagina 80 grammi. Perché? Perché potete fare delle scelte, potete scegliere delle dimensioni preimpostate, potete scegliere una stampa, se bianco-nero ha colori, ovviamente a colori costerà di più, il tipo di copertina, il peso della copertina, la qualità della carta, 80 grammi è una buona qualità. Altrimenti ne avete anche altri pesi, che possono essere naturalmente di qualità inferiore. E basta. Poi qui, quando è stato pubblicato, quindi qui siamo alla... Vedete che su questa parte destra mostra già il libro, quindi è già pubblicato, no? Quando l'avete pubblicato anche con il suo ISBN, eccetera, eccetera, potete ordinare le copie. E l'ordine delle copie è interessantissimo, perché adesso vedremo appunto, sono quelle che poi io ho ricevuto. In realtà, ecco la copertina. Vedete che avete due file da caricare. Quello della copertina, che giudica se è valido, la copertina deve essere fatta in un certo modo, la costruite con Wright. E Wright vi dà le dimensioni giuste, proprio la componete. Quindi la componete scegliendo il colore, poi inserendo le immagini di copertina, inserendo il bordo con la scritta nel bordo, inserendo tutti i testi della quarta di copertina, compreso il marchio dell'editore. L'editore siete voi. Nel mio caso si chiama Yora Storytelling, che è il nome del mio marchio, che è il nome anche, il marchio anche con il quale io poi faccio attività di consulenza, produzione, eccetera. Quindi la copertina, vedete, è un file a sé stante. Mentre il contenuto, che cos'è il contenuto? Il contenuto è il libro che voi avete creato e impaginato. In questo caso, sia la copertina, sia il testo, sono stati acquisiti tramite Wright, o creati, proprio creati tramite Wright. Wright, che è l'applicazione, un servizio associato di Streetlib. È quel servizio di cui vi ho parlato all'inizio, per cui effettivamente potete creare tutto con Wright, anche il libro, però non è, diciamo, il sistema più adatto per creare un e-pub. È invece molto valido per creare il vostro libro a stampa. Poi che succede? Succede che poi selezionate gli store. Ecco, gli store attualmente selezionati, quindi, sì, sono un po' più di tre o quattro, comunque non sono tutto quell'elenco di store che avete visto prima. Sono quelli che consentono una stampa di tipo print-on-demand. Ed ecco il margine di acquisto. Questo è un aspetto particolarmente interessante. Poi voi potete moltiplicare questo per due. Non è esattamente per due, sarà un e mezzo. Se il libro, non so, è di 130 pagine o di 200 pagine. Ecco, dunque io lo vendo 8,50 euro. I ricavi minimi sono di 1,55 euro per ogni coppia venduta o di 4,73 euro. Questo dipende dagli store di vendita, perché Amazon fa una politica, IBS ne fa una, ognuno fa le sue politiche. E ognuno ti commissiona. Qui non c'è più il 70%, diciamo, non c'è più una cifra fissa. C'è una cifra variabile che calcolano i vari store. Allora, continuiamo qui il discorso. Questo è il margine. E qui abbiamo anche lo scorporo del costo. Quindi la stampa, la distribuzione, quello che richiede lo store per fare questo servizio. E quindi i guadagni ammontano al 20, su ogni copia. Questo è la distribuzione del costo. Quindi c'è una ragione, chiaramente, per cui i costi sono così. Come vedete, gli store in questo caso prendono abbastanza, quasi il 45%. Però, che cosa succede? La vera novità, la vera cosa interessante è questa. Che a me questo libro a stampa costa meno di una fotocopia. Ma molto meno di una fotocopia. Cioè, ogni copia del libro a stampa, così come avete visto, con questa copertina lucida, ben impaginato, figo, con il suo profumo di stampa, ogni copia mi costa 1,35 euro. A 1,35 euro, uno, io lo posso regalare. Infatti ogni tanto ne prendo 20-30 copie, le regalo ai colleghi, non so, oppure capita di partecipare a qualche occasione, così lo regalo. Oppure lo vendo, anche vendendolo solo a 5 euro. Mettiamo che, diciamo, non è questo il caso del libro, mettiamo che questo sia un libro, che ne so, di pedagogia, di metodologia, eccetera. Assumo una conferenza, io lo compro a 1,35 euro, il prezzo di vendita è 9 euro, diciamo, e al pubblico lo vendo a 5. È buono, ammetti che ci siano 100 persone in sala che lo prendono, cosa che capita, è normale, è una cosa normalissima questo fatto. Quindi queste 100 persone comprano il libro a 4 euro, quindi in una conferenza puoi avere un ricavo di 400 euro grosso modo e proponendo il libro alla metà del prezzo di copertina. Ecco, questo è l'aspetto interessante del print on day, ma non tanto il fatto che le persone andranno sugli store a comprare effettivamente il libro di carta, cosa che non faranno, perché normalmente se tu hai il libro di carta e anche l'e-pub, le persone comprano l'e-pub, è difficile comprare un libro di carta. Il libro di carta si compra nelle librerie, oppure se sai già, magari, insomma, non è questo tipo il mercato, eccetera. Però quello che è davvero interessante è questo. Quindi se il libro fosse, anziché di circa 70 pagine, fosse 150, il prezzo di acquisto per me sarebbe, poniamo 2 euro, e il prezzo di vendita potrebbe essere di 10 euro e poi invece di distribuzione in conferenze, così potrebbe essere di 5 o 6. Ah, vedo che alzate la mano, no, ma intervenite pure, perché poi magari non vedo il Patrizia. È rimasta alzata la mano mia, in realtà, quella che aveva usato prima, però approfitto per farti delle domande. Quindi, senti, comunque il prezzo lo fai sempre tu, comunque. Sempre io, certo. E poi lo fai, cioè quello ti fa vedere qual è il tuo margine, quindi tu in base al margine decidi, ovviamente non lo metterai mai più basso di quello che fa il costo di produzione. Non lo posso fare, questo non me lo consente. Mi dice che il prezzo deve partire da un certo livello, chiaramente. Ah, ok, un minimo te lo dà, quindi un minimo che... Sì, mi dà un minimo perché mi dice, guarda che se è così, poi cosa facciamo, chiediamo i soldi a te? Eh, infatti, ecco, quel minimo. E quindi poi ti fa il prezzo di favore per l'autore, c'è un prezzo di favore di acquisto, che è di fatto un poco più di guadagno forse della produzione materiale del libro. Sì, cioè è un prezzo veramente... Poi oltretutto è un prezzo che varia, perché se prendi 30 copie fa 40,50 euro. Ah, quindi più sono le copie, più ti ci fa una sorta di sconto, insomma. Sì. E poi un'altra cosa, ma poi loro riportano il prezzo del libro sulla copertina, cioè nel senso, quindi appunto se tu fai un incontro e lo vendi all'incontro, cioè lo puoi vendere a qualsiasi prezzo, perché comunque loro non lo mettono sulla copertina, quindi non hai vincoli particolari. Ma se tu lo fai in un incontro, tu dirai che questo libro è venduto su Amazon a 12 euro e che per l'occasione ce l'hanno a 6. A 6. E tu guadagni di più così, che non effettivamente a mandare le persone su Amazon a comprare il libro. Perché come hai visto, lo store si tiene il 45% del prezzo di copertina. I tuoi guadagni dagli store di un libro di carta sono pochi. Sono... Quindi in realtà... Scusa Alberto, faccio sommessamente notare che il prezzo di copertina è lo stesso. Ah, è lo stesso. Certo, perfetto, molto bene. Allora non fanno sconto. No, perché sapevo che facevano... Sì, magari molto se sono più di 30, adesso non so la differenza tra 1 e 30, credo. Poi penso dipende anche se devono spedirle in un unico posto. Sì, 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 certo. Sì, no, quelle tu le compri tutte insieme e te le mandano a te, no? Ho un indirizzo solo. È un pacchetto che ti fa... E quindi ovviamente c'è poi l'aggiunta delle spese di spedizione. Ah, ma sono irriva. No, mi sembrava fosse... No, mi sembrava fosse compreso. Compreso, compreso. Se torni indietro, compreso. Nelle percentuali mi sembrava fosse compreso. Sì, compreso. Distribuzione. Distribuzione, esatto. No, no, sono compreso. Sì, sono compreso. Ti farò un'altra domanda dopo. Sì, ma io diciamo quasi finito. Volevo solo mostrare... Cioè, come si chiama dal vivo. Qui, ecco, sono le scelte che potete fare con l'applicazione Write. Quindi vi dice, crea una creazione... Qui ci sono alcune schermate in successione, no? Crea una versione cartacea del libro e ti chiede tipo di stampa... Aspetta che avevo attivato uno zoom. Ah, come si faceva così? Ah, ecco, perfetto. Dunque, crea una versione cartacea del libro. Tipo di stampa, black and white, color, qualità della stampa, height, tipo di carta, eccetera. Fai queste scelte qua. Loro ti propongono alcune scelte standard. Non puoi fare cose strane, le pagine viola con le scritte... No, questo no. Per fare questo devi acquistare un pacchetto che ti costa 40-50 euro annuale. Ti consente di specializzare di più quello che loro ti propongono. Ma è inutile, perché quello che ti propongono è esattamente in linea col mercato editoriale. Poi crea una versione E, il formato, perché qua eri allo stile. La copertina ve la faccio vedere a parte. Poi scegli il formato. E il formato sono le dimensioni. Qui voi prendete un righello, un centimetro, guardate i libri che avete in casa, vedete qual è il formato che è più interessante per voi e lo scegliete. Poi che cosa vi chiede? Vi chiede il tema. Ecco, ci sono dei temi preimpostati. Questo si chiama Calvino. Questo è più per libri magari tecnici o di racconti, no? Ogni capitolo magari un racconto. Questo è più classico. Questo anche è classico, ma più moderno, spostato a destra. Io cosa ho scelto? Io ho scelto un tema. Vediamo dove è il capitolo. Ah, ecco. Il capitolo appare così. Quindi è un tema classico. Ho scelto perché appunto essendo un romanzo, una storia, mi sono attenuto al... E qui la prima pagina interna appare in questo modo. Però avete un'ampia gamma. E qui ve ne mostro tre, ma in realtà sono sette e otto i modelli da scegliere. Poi, fatto questo... Ho fatto questo qui. Lo zoom però non ritorna come prima. Va bene. Perché non ritorna? Vabbè, pensavo di aver sistemato uno zoom automatico. E invece no. Supporto e indicazioni per tutto questo. L'avrete in questo link. Eccolo qua. Crea. E poi quando andate nei... Eccolo qua. Temi grafici, eccetera. Scopri tutti i temi. Poi l'anteprima, eccetera. Quindi avete le spiegazioni. Prezzi. Prezzi, io ho preso questo gratis. Voi potete fare gratuitamente, usare questo sistema gratuitamente. Oppure... E quindi create un libro. Oppure premium avete la possibilità di creare più libri. Ultimamente ho preso questo perché ho intenzione di creare un po' di libri di questo genere. E dovete avere, come ho detto all'inizio, un bel testo formattato con i suoi stili. Insomma, che sia tutto a posto in modo da poi fare che cosa? Questa operazione. Ecco. Qui... Qui dove siete? Qui siete all'interno di Vrite. che si presenta proprio così, con una struttura per capitoli. A parte questo che è la copertina, poi la pagina interna, eccetera. Poi avete i capitoli. Quindi ogni capitolo... Questo è il secondo capitolo. Il secondo capitolo potete avere un sottotitolo. Qui potete scrivere, anziché due, potete scrivere, non so, il viaggio di nonna Carlotta. Poi il sottotitolo. In realtà, come avete visto, in questo libro i capitoli sono identificati solo tramite numeri. E poi cosa fate? Avete il vostro testo impaginato e lo copiate e incollate semplicemente qui dentro. Lui mantiene la sua impaginazione. Pronto? Controllate tutto. Guarda, stavo... Aspetta. Sì, ecco, guarda che ha disattivato. Voi controllate poi quello che... Quindi capitolo dopo capitolo inserite quello che dovete inserire. Se nel capitolo ci sono delle immagini, quindi qui avete il pulsantino per inserire le immagini. Se ci sono le note, avete il pulsantino per inserire le note. E basta. Fate questa operazione e vi trovate poi con il libro, diciamo, a posto. Dovete compilare la scheda libro, le solite cose, no? Come si intitola, hanno le pubblicazioni, bla 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 bla. Poi avrete... In questo caso non cambia la copertina perché qui la copertina c'era già. Avete la creazione della copertina che avviene in questo modo. Eccolo qua. Passo passo, voi avete le varie sezioni. Quindi avete la copertina, la quarta di copertina e il dorso. Queste sono delle aree di testo che sono già predisposte. Dovete solo inserire i testi di riferimento, il marchio. La copertina deve essere nel formato corretto. L'unica cosa sulla quale prestare attenzione è la grafica della copertina vera e propria. Cioè questa grafica è stata creata a parte. Non ho inserito il testo qui utilizzando Write, ho proprio creato. Una grafica delle dimensioni giuste, ma tanto vi sono date poi tutte le indicazioni per questo. Poi cosa fate? Scaricate tutto. Scaricate la copertina. Scaricate la versione che avete creato con Write. Cioè questa. La scaricate. Vedete che c'è il pulsante scarica. Cioè voi dovete avere due file. Uno perfettamente impaginato secondo il modello che avete scelto. E l'altro con la copertina perfettamente immaginata. Con questi due file ecco che avviate la procedura di pubblicazione che è negli store. Che è appunto questa qua. Eccolo qua. Quindi avete scelto il vostro formato. Perfetto. E qui caricati i due file. Quello della copertina e il PDF perché ve lo consegno in PDF. E non avete problemi perché avendolo creato con file è giusto. Perché io ho provato in altri modi a crearlo un po' per conto mio anche con InDesign magari eccetera. Ma c'è sempre qualche problema che non funziona eccetera. Invece creandolo con Write alla fine va bene. Funzione semplice ti dà il PDF e con questi due PDF eseguite le procedure di pubblicazione. Cioè le stesse che abbiamo visto praticamente per il libro Inipub prima no? Perché poi alla fine dovete indicare le stesse cose. Cioè i metadati, gli autori, gli store nei quali il libro dovrà essere pubblicato eccetera eccetera eccetera. Grazie a tutti.